Yalena Ilich è la moglie di Fabio De Luigi che, pur restando in disparte, lo sostiene in tutto e per tutto. Pur non parlando esplicitamente di lei ai microfoni di Verissimo, l'attore, in un'intervista rilasciata ai microfoni di Vanity Fair, ha fatto capire come l'incontro con Yalena sia stato la sua fortuna. Io sono fortunato, sono state le parole dell'attore che, a Silvia Toffanin, ha svelato di essere molto presente in casa quando non lavoro. Aiuto i bambini a fare i compiti, porto fuori la spazzatura, il cane. Cos'altro devo fare, si chiede l'attore che, a 50 anni, è soddisfatto della sua vita professionale e privata. Con Yalena, infatti, è riuscito a creare una splendida famiglia che è il segreto della sua serenità. Sempre sorridente, però, De Luigi svela che a casa, Yalena e i bambini si accorgono subito quando si arrabbia, mi cambia proprio il tono della voce e due, conclude, aggiornamento di Stella di Benedetto. È una donna molto sicura e risolta.Fabio De Luigi torna in tv ospite della puntata di sabato 2 febbraio 2019 di Verissimo, il rotocalco televisivo condotto con grandissimo successo da Silvia Toffanin su Panale 5. L'attore e comico italiano è felicemente sposato da diversi anni con Yalena e Lick conosciuta ad una cena di amici in comune. Un amore importante quello sbocciato tra i due che, ancora oggi, sono più innamorati che mai. La conferma. Arriva direttamente dalla pagina del settimanale Diva e Donna che ha pubblicato un po' di tempo fa delle fotografie di Fabio e Elika per le strade di Rom come due piccioncini. La coppia si è fatta pizzicare in atteggiamenti davvero molto complici intenta a scambiarsi degli appassionati baci. . Il primo incontro con Yalena e Lick. Durante un'intervista rilasciata a Vanity Fair, Fabio De Luigi ha raccontato il primo incontro con Yalena e Lick, ex attrice che in passato ha lavorato anche con la Giallata S-Band. Ho incontrato Yalena quando avevo 31 anni a una cena tra amici ha detto l'attore e comico italiano. Lei, che è serbo croata, viveva in Romagna da cinque anni, non ci siamo più lasciati e condividiamo tutto, anche le scelte professionali ha precisato De Luigi, prima di ironizzare sull'arrivo dei tanti amati figli. Poi sono arrivati gli intrusi. La seconda, che è femmina ed è bionda, sia nell'aspetto che nel carattere, è entrata a gamba tesa nel nostro equilibrio. Le differenze tra uomo e donna sono evidenti da subito, la malizia in lei è già chiara, nel maschio chissà se e quando arriverà ha detto l'attore. Yalena Eilick, lei è una donna molto sicura e risolta.Yalena Eilick non è mai stata gelosa delle bellissime donne che hanno lavorato col marito, da Elisabetta Canalis a Michel Unziker. Lei è una donna molto sicura e risolta ha detto Fabio De Luigi che, invece, in passato è stato geloso della moglie diverse volte, no. Quando lo sono stato, in passato, ne avevo motivo. Sulla monogamia all'interno di un rapporto di coppia l'attore non ha alcun dubbio, per me no, dipende dalle priorità. Ognuno ama sedurre, ma non per questo è necessario essere infiedeli. Io poi sono fortunato, perché devo essere seduttivo per lavoro. Una storia d'amore bella ed importante quella nata tra Fabio De Luigi e Yalena legati sentimentalmente dal 1998 da cui sono nati anche due splendidi figli di nome Lola e Dino. Iscriviti per non perdere le novità, grazie per il like. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti